Buonasera a tutti, a chi è presente qui e anche a coloro che ci stanno seguendo da casa nella diretta streaming della Camera. Questo incontro di oggi mi fa molto piacere presentarlo perché coincide con un momento importante per la storia del nostro Centro Studi Machiavelli. È il momento in cui si costituisce il Consiglio Scientifico con l'ingresso di due illustri accademici, due professori ordinari di storia, il professor Marco Gervasoni e il professor Eugenio Capozzi che ci onorano appunto del loro aiuto, della loro presenza ad ora in poi in questo che è stato definito, uso le parole dei nemici tra virgolette che spesso sono più sinceri di quelle dei amici, è stato definito dal manifesto come il motore propulsivo delle tesi identitarie della Lega. Adesso, a di là magari delle esagerazioni giornalistiche e del riferimento partitico, ovviamente non voglio impegnare i nostri neoconsiglieri scientifici in questo senso, l'auspicio è che possa aiutarci a dare sempre più rigore, sempre più qualità a quello che facciamo, che abbiamo fatto finora in due anni e mezzo, spero, di lavoro rilevante in termini di promozione di idee e di culture politiche per l'area conservatrice e della destra italiana. Questa presentazione la facciamo dedicando un dibattito a un tema che quando si parla di cultura politica è veramente fondamentale, quello del politicamente corretto, per estensione quello dell'egemonia culturale che in questo momento, penso sia noto a tutti, è in mano ad ambienti politico-culturali non esattamente vicini a quella che è la nostra impostazione. Prendendo a prestito un'osservazione che ha fatto proprio il professor Capozzi, che ha dedicato un saggio al tema del politicamente corretto, la sinistra progressista negli ultimi decenni ha deciso di passare come, di eleggere un nuovo strumento per scardinare il sistema, per cercare di rivoluzionare la società secondo i propri progetti, non più la struttura economica, come era classicamente nella teoria marxista-leninista, ma quella che una volta avrebbero chiamato la sovrastruttura, cioè intervenire sull'ambito dei costumi, della cultura, del modo di pensare, in modo che si cambiasse prima il pensiero, prima appunto la cultura in senso lato, e poi si cambiasse anche la realtà. Noi siamo proprio impegnati, come centro studi, come pensatoio, siamo impegnati in questo campo, nell'ambito, passatemi in termini, della battaglia culturale. Una battaglia ovviamente che si combatte non con la violenza, si combatte con le armi delle idee, con le armi dei convegni, con le armi delle ricerche, dei libri, tutto quello che noi facciamo abitualmente. Una battaglia che serve a ripristinare un sano dialogo, un sano pluralismo nel campo delle idee, nel campo della cultura, dentro l'università, che è fondamentale, che deve essere consustanziale di una società democratica, la possibilità che ci siano varie culture politiche che convivono, che dialogano, che cercano delle sintesi, ed è quello che sempre meno sta accadendo nella società nostra, proprio a causa di questa egemonia culturale aggressiva, di questo codice del politicamente corretto, che è diventato ormai oppressivo, abbiamo scelto come titolo, inserire il termine dittatura, proprio in tal senso, che è diventato un'occupazione delle posizioni che contano all'interno dell'università, all'interno del mondo letterario, dell'industria culturale. Il progetto che abbiamo, che facciamo nostro, come Machiavelli, non è un progetto speculare, non c'è intenzione di creare una contragegemonia o una contradittatura di un altro linguaggio politicamente corretto. La nostra prospettiva è veramente liberale, la prospettiva di riuscire a tornare al pluralismo, di riuscire a superare questi fenomeni, censori, di cui abbiamo avuto esperienza anche in tempi recentissimi, pensiamo a quanto accaduto col Salone del Libro, pensiamo a quanto accaduto ad alcuni intellettuali, tra cui uno che è presente in questa sala, il professor Corrado Cone, che ringrazio della sua presenza, non è un qualcosa che possiamo accettare che accada in democrazia, che non sia possibile sviluppare un libero dibattito. La cultura, le università devono essere proprio il campo della libertà, della libertà di espressione e libertà di pensiero. E teniamo sempre presente che se c'è questo clima sempre più oppressivo in Italia, all'estero, in paesi come la Gran Bretagna, come gli Stati Uniti, che molto spesso anticipano le tendenze anche da noi, il clima è molto peggiore, è molto più pesante. Questa è la ragione per cui siamo impegnati in questo tipo di battaglia culturale. Quindi io passerei ora appunto a dibattere di questa tematica, ringraziando anche della sua presenza ovviamente dal sottosegretario Lucia Borgonzoni, alle beni e alle attività culturali, quindi nell'ambito del mondo della destra conservatrice, la più alta autorità in questo governo in ambito culturale. E comincerei dal professor Capozzi, che come vi dicevo ha scritto questo saggio scientifico, non un libello, un vero saggio scientifico che ripercorre tutta la genesi storica e l'evoluzione dottrinale del linguaggio politicamente corretto e che credo sia ormai nel novero dei autori critici che hanno studiato questo fenomeno la maggiore autorità qui in Italia. Prego il professore. Grazie. Ringrazio innanzitutto il Centro Culturale Machiavelli per questo onore che mi fa con l'invito a far parte del comitato scientifico al quale io spero di dare il mio minimo contributo per sostenere le battaglie e soprattutto le operazioni di approfondimento culturale e scientifico che questo centro già meritoriamente ha messo in opera. Lo ringrazio anche delle odi meritate, ringrazio la sottosegretaria Borgonzoni che è qui presente con noi e ci incoraggia in questo lavoro e sono convinto innanzitutto che, questa è la ragione per cui mi sono occupato scientificamente del tema, che il politicamente corretto non sia soltanto una retorica vuota, un tic della nostra società occidentale contemporanea, ma sia una vera e propria ideologia e abbia le stesse caratteristiche di violenza ideologica, di intolleranza, di delegittimazione degli avversari che hanno avuto le ideologie, diciamo, tra virgolette classiche, otto-novecentesche, con la differenza che si tratta di un'ideologia profondamente, radicalmente relativistica, per cui si viene a configurare quasi come una sorta di assolutismo del relativismo, cioè un relativismo che si impone paradossalmente come se fosse una visione del mondo indubitabile, che quindi si propone di corrodere nella mentalità degli intellettuali e anche della società civile qualsiasi tentativo di proporre una verità come tale. Quindi l'imperativo del politicamente corretto è quello di cambiare la mentalità e di cambiarla nel senso di trasformarla in una mentalità talmente passiva, talmente renitente di fronte alla verità, che poi è disposta ad accettare qualsiasi tesi che sia propagandata con la forza del grande sistema mediatico mainstream che esiste oggi in Occidente, che non a caso, compresa l'industria dell'entertainment, è uno dei veicoli fondamentali. Oggi non ci sono più i libretti rossi di Mao per diffondere l'ideologia, c'è Netflix, c'è Disney, ci sono i grandi canali, ci sono i social media che selezionano le notizie, selezionano le pagine, mettono a tacere quelle indesiderate eccetera eccetera. Quello che vorrei solo sottolineare è questo. Negli anni 50, quando c'era la guerra fredda, in Occidente esisteva un'egemonia culturale marxista. Anche nei paesi anglosassoni, nelle università esisteva un'egemonia culturale marxista, in Europa ancora di più, in Italia non ne parliamo, insomma sappiamo benissimo. Contro questo strapotere che aveva aspirazioni censorie e delegittimanti veramente quasi insuperabili, nelle case editrici, nelle università e nel dibattito pubblico, era difficile quanto lo è oggi esprimere delle opinioni contrarie alla corrente egemone. Si formò un'organizzazione che si chiamava Congress for Cultural Freedom, congresso per la libertà della cultura, che venne promosso da intellettuali del calibro di Carli Aspers, di Friedrich von Hayek, di Benedetto Croce e che aveva una sua sezione italiana nell'Associazione Italiana per la Libertà della Cultura, di cui erano fondatori ed esponenti principali, Ignazio Silone e Nicola Chiaromonte. Queste organizzazioni in maniera coraggiosissima e controcorrente riuscirono a contrastare la egemonia del marxismo-leninismo nella cultura occidentale non lamentandosi, non facendo, non stracciandosi le vesti, ma producendo dei contenuti culturali e mostrando che la cultura occidentale era superiore a quella che si produceva, sia pur di alto livello, ma controllata assolutamente dal potere del Partito Unico nei paesi dell'orbita sovietica. Quindi la grande battaglia per la libertà della cultura è stata combattuta e alla lunga vinta grazie alla capacità della cultura occidentale di produrre veramente dei contenuti originali. Oggi la situazione è più difficile perché al marxismo-leninismo è succeduto il progressismo relativista ed è più difficile contrastarlo perché è pervasivo e liquido, quasi imprendibile e occupa tutti gli spazi. È difficile oggi avere degli organi scientifici e delle associazioni che riescano a contrastare efficacemente dal punto di vista della comunicazione questa egemonia. Diciamo che dai collegi americani fino al Salone del Libro di Torino, su cui meritoriamente la sottosegretaria Bergonzoni è stata mosca bianca che nella politica italiana è intervenuta a difendere l'elementare diritto alla libera espressione. Oggi abbiamo una grande difficoltà a contrastare il pensiero politicamente corretto. Centri studi come questi e case editrici coraggiose come quella di Francesco Giubilei e altri stanno veramente con mezzi a volte assolutamente ineguali combattendo una battaglia per diffondere contenuti di qualità. Ma è su questo punto che bisogna continuare. E c'è bisogno, secondo me, e qui chiudo, di rivivere lo spirito del Congress for Cultural Freedom e dell'Associazione per la Libertà della Cultura. Creare oggi un fronte della libertà di espressione. Lo chiamerei quasi un free speech movement, come quello che fu fondato nei primi tempi delle agitazioni degli studenti americani nei collegi nel 64-65, se non fosse che ironicamente quel movimento per il libero pensiero, per la libertà di espressione, si è poi trasformato oggi invece nel movimento che vuole censurare chiunque non sia allineato con certe categorie del pensiero. Un movimento per la libertà di espressione che, ripeto, può vincere solo se però sarà o saremo capaci di proporre, di dimostrare che la libertà di espressione paga, che produce qualità dal punto di vista scientifico e intellettuale. Da questo punto di vista farò il minimissimo contributo che posso dare, darò in questo senso. Grazie. Un dato a chiosa di quello che diceva il professor Capozzi. Nel 1968 si calcolava che il rapporto all'interno delle università americane tra professori di orientamento conservatori e professori di orientamento progressista fosse di 1 a 3 a favore dei professori, diciamo di sinistra, per progressisti. Quando di anni recenti è stato rifatto questo computo si è visto che il rapporto è diventato di 1 a 12, con picchi di 1 a 33 proprio nel settore degli storici. Quindi mi dispiace per i professori, spero che non succeda. perché, ma non mi stupisce. Nelle università italiane è forse anche peggio. Non è stato fatto il calcolo all'Università di Italia, ma secondo me siamo messi quantitativamente. Quindi la situazione, non dico drammatica, ma sicuramente ci chiama all'azione. Ringrazio anche il professor Capozzi per aver citato giustamente l'amico editore Francesco Giubilei, che ha dovuto farsi una fiera libraria con la Digos a sovegliare. Me l'ho dimenticato colpevolmente, anche il mio editore, quindi spero non se la prenderà. Ecco. No, è l'editore, non solo del mio libro, ma del primo libro della collana promossa a Machiavelli. Quindi permettetemi di ringraziare i storici edizioni per questa collaborazione che spero avrà un impatto positivo nel mondo culturale della destra italiana. Ora la parola a Marco Gervasoni, storico come dicevo, professor ordinario dell'Università di Molise, noto sicuramente a tutti anche come prolifico articolista su varie testate, nonché la prima persona ad aderire a questo progetto del Consiglio Scientifico, sta dando una grande mano al Centro Studi di Machiavelli, quindi un doveroso doppio ringraziamento nel suo caso. Grazie, naturalmente è piacere e onore mio di far parte fin dall'inizio del Comitato Scientifico, o Consiglio Scientifico, come ti hanno chiamato con una rarità linguistica apprezzabile. Naturalmente associo totalmente ai ringraziamenti e anche a quello che diceva l'amico Eugenio. Io però nel mio, ovviamente non ripeterò le stesse cose, però volevo soffermarmi proprio riguardo al tema del politicamente corretto su due o tre considerazioni. Prima di tutto bisogna dire che questo assalto del politicamente corretto, poi spiegherò perché abbiamo scelto il termine di dittatura, l'hai spiegato in parte Daniele, ma mi entrerò un attimo. Tre casi molto recenti, anche di livelli culturali diversi. Per quelli della mia generazione, non più giovane, tutti ricorderanno Morrissey che è il cantante degli Smiths, uno dei gruppi più importanti della prima metà degli anni Ottanta. Morrissey naturalmente ha continuato a fare i dischi, se non che l'ultimo, come dire, a causa delle sue dichiarazioni non proprio politicamente corrette, pro Brexit, anti-immigrazione e così, è stato il disco. Non solo il disco non viene più venduto in molti negozi di Londra, ma addirittura la casa editrice ha dovuto ritirare la pubblicità sui trame così perché sono arrivate valanghe di mail, di proteste perché le persone si sentivano offese. Attenzione, ricordiamoci questa parola, offese. Secondo caso, ci spostiamo dalla Gran Bretagna alla Francia, più o meno sempre qualche settimana fa. Alain Finkielkraut è un accademico, nel senso dell'Académie Française, che sono proprio i mandarini, alcuni sono anche abbastanza rintronati. Non è il caso sicuramente di Finkelkraut. Finkelkraut, che cosa ha fatto? Finkelkraut è un pensatore che, diciamo, ha delle posizioni sull'Islam, sulla decadenza della cultura occidentale e su molto altro, non certamente in linea col mainstream macroniano. Va bene, è andato a fare una conferenza, è stato invitato a fare una conferenza a Sciences Po, cioè la scuola di elite principale del paese, dalla quale anche Macron è uscito, ed è stato invitato da un FinFank che ha una... non solo l'hanno invitato, ma questo FinFank si chiama Critique de la raison européenne, critica della ragione europea, ed è considerato, non è vicino a Le Pen, è semplicemente considerato essere vicino a Le Pen. Che cosa è successo? Il povero Finkelkraut, per fare la conferenza, ha dovuto chiamare... il prefetto ha dovuto chiamare la polizia, perché altrimenti gli studenti di Sciences Po, che sono studenti, diciamo, della buona borghesia francese, naturalmente glielo avrebbero impedito. Terzo caso, ancora più recente, che apparentemente non riguarda il politico anticorretto, ma in realtà lo riguarda. Il presidente degli Stati Uniti, quindi non esattamente l'ultima persona al mondo, fa un viaggio ufficiale a Londra. Il sindaco di Londra il giorno prima lo accoglie dicendo che è un fascista. Trump gli risponde che è un perdente, ha perfettamente ragione, però ecco, in questo caso, questo Sadikan, il sindaco di Londra, non ha sicuramente la minima idea di cosa fosse il fascismo originale, però utilizza questo termine è diventato passepartout per demonizzare chiunque non la pensi, o non solo non la pensi, vabbè, il pensiero non sono ancora riusciti a leggerlo, però se poi finché la pensi e non dice niente va bene, nel momento in cui la pensi e dice qualcosa, allora ed è che va fuori dal racconto mainstream, soprattutto su alcuni temi come immigrazione e così via, viene identificato come fascista. Quindi la cosa grottesca è che il sindaco di una città, una città più importante del mondo, Londra, ha dato del fascista al presidente degli Stati Uniti che stava per arrivare. E poi naturalmente abbiamo avuto un caso anche qui lampante, diciamo a Torino, è stato già evocato, del Salone del Libro. Il Salone del Libro, attenzione, questo mi aggiungo anch'io al plauso dell'intervento del sottosegretario Borgonzoni che grazie al suo intervento, diciamo, dopo il post di quel tizio di cui non mi ricordo più il nome, no, non me lo ricordavo, non è che volevo fare come Emilio Fede, non me lo ricordavo, dopo il post è intervenuta facendo giustamente scoppiare il caso. Quello apparentemente dietro la coltre, diciamo, vintage, fascismo, antifascismo, c'era in realtà la questione, perché se ricordiamo il post di non di Raimo ma del direttore, di cui non mi ricordo, la Gioia, la Gioia diceva no, noi non possiamo accettare questa casa editrice perché offenderebbe, ecco vediamo ritornare questo termine, offendere, perché l'ideologia del politicamente corretto non dice io non ti faccio parlare perché tu hai posizioni diverse, io non ti faccio parlare perché quello che dici tu offende chi? Una volta, in quel caso, i sopravvissuti nei campi di sterminio che poi non c'entrava assolutamente nulla, tra l'altro, quindi con un utilizzo anche strumentale e cinico, diciamo, di questa grande tragedia, una volta offende l'Islam, un'altra volta offende, un'altra volta offende naturalmente gli LGBT, un'altra volta offende, guarda caso non offende, quando c'è qualcuno che offende i cristiani o i cattolici, nessuno interviene, no naturalmente, quindi questa è proprio l'origine di base che porta ad essere questa ideologia estremamente violenta e ad avere le caratteristiche, quando Trump parla di witch hunt, di caccia alle streghe, è esattamente il termine da utilizzare, perché la modalità è proprio quella della caccia alle streghe, non la caccia alle streghe quella dell'Europa cattolica, oppure fu fatta la caccia alle streghe, ma la caccia alle streghe dell'America protestante, quella, diciamo, nota nel 600, le streghe di Salem, quella più nota in questo senso, cioè con una carica di, come dire, di violenza anche superiore, come hanno mostrato gli studiosi, rispetto a quella cattolica. Perché abbiamo usato, come abbiamo usato il termine, quindi dittatura, può sembrare abbastanza pesante l'uso di questo termine. Dopo che avevamo deciso questo termine, è uscito qualche giorno dopo, non ci eravamo messi d'accordo, un libretto di un filosofo molto noto, non solo in Francia, anche in altri paesi, Michel Onfray. Michel Onfray non è certamente un simpatizzante di Le Pen, anche se alle presidenziali scorse ha votato per Mélenchon, anche se ha commesso una cosa che già l'ha messo in cattivo luce. Nel secondo turno non ha andato a votare, cosa che... Michel Onfray non è nuovo, è quindi una figura di sinistra, diciamo, anarchico libertario, anarchico libertario, che ha pubblicato proprio una settimana fa questo libro, che si chiama Teorie della Dictature, Teoria della Dittatura, in cui Onfray, in una maniera molto lucida, analizza i due principali, non i due principali, i due più noti romanzi di George Orwell, La Fattoria degli Animali, in 1984, e dice, attenzione, che il mondo descritto da Orwell, soprattutto in 1984, è esattamente il mondo del politicamente corretto, e fa vedere, utilizzando in maniera molto intelligente, utilizzando citazioni di 1984 e dalla Fattoria degli Animali, e mostrando invece le dichiarazioni dei censori attuali, come ci sia una coincidenza, anche per esempio nell'annullamento della storia, nella ricostruzione della storia, nel cambiamento del linguaggio, il linguaggio che deve essere completamente ricostruito, e nella... in quella che Onfray chiama, questo politicamente corretto, è l'ideologia dell'impero. Quale impero? Quello che Onfray chiama l'ampire Maastrichtienne, cioè l'impero di Maastricht, nel senso che c'è una correlazione molto stretta, naturalmente politicamente corretto, c'è anche negli Stati Uniti, che per loro fortuna non fanno parte della UE, però ecco, c'è una correlazione molto stretta tra l'ideologia europeistica e l'ideologia, se fate attenzione, l'ideologia è politicamente corretto, anche perché uno delle grandi, come dire, corazzate dell'ideologia europeistica sono le sentenze, quindi non sono solo ideologie, sono le sentenze della Corte dei diritti dell'uomo, per esempio, che, come dire, oltre a poi legiferare anche su aspetti che entrano nelle legislazioni nazionali, costruiscono tutto l'apparato ideologico dell'Unione Europea. Quindi che cos'è, in fondo, e qui vado chiudendo, politicamente corretto però forse dovremmo imparare ad utilizzarlo più questo termine, perché? Perché secondo me, utilizzando questo termine, noi, come dire, svalutiamo la pericolosità del fenomeno. Politicamente corretto nasce come termine, è nato come eccezione positiva e poi è diventato satirico, nel senso è stato utilizzato, quindi come se fosse un fenomeno, come dire, che provoca sorriso. Ma quale sorriso? Questi menano, diciamo, e non solo metaforicamente. Quindi, diciamo, l'esattamente, come diceva anche Eugenio prima, è semplicemente la traduzione dell'ideologia progressista. L'ideologia progressista ha scardinato completamente destra e sinistra, abbiamo visto che è una figura che si definisce di sinistra come Onfray può disprezzare questa ideologia progressista. L'ideologia progressista è questa idea, appunto, di ricostruzione, di ricostruire il mondo, di ricostruire anche l'uomo nuovo, questa ideologia centrale del progresso. E naturalmente, nel racconto del progresso, tutti coloro che vanno, diciamo, contro questa narrazione diventano immediatamente persone che vanno contro il progresso, quindi vanno contro la religione principale del nostro tempo, che è una sorta di neopaganesimo. Quindi, questo è una battaglia che, diciamo, poi in vari ambiti, l'università naturalmente prende delle forme, nel cinema prende altre forme, nella canzone prende altre forme, però è pervasiva e, però, tuttavia, come dire, non è imbattibile. Ci sono dei segnali molto forti, diciamo così, di crisi di questa ideologia che si tramutano sia in fenomeni elettorali, cioè molte persone hanno votato alcuni partiti, non solo in Italia, appositamente perché schifati da questo witch hunt, ma naturalmente anche nell'ambito culturale, si diceva, sono citato prima case editrici così, quindi non le cito neppure io. E quindi, diciamo, questo piccolo compito difficile, ma non impossibile, credo che poi ce lo possiamo porre e abbiamo le forze per farlo. Grazie. È stato già più volte evocato l'intervento del sottosegretario Borgonzoni in occasione della Fira del Libro, ma vorrei ribadirlo ancora una volta. Non è stato un intervento così scontato, perché se guardiamo solo all'ambito accademico-culturale, sembra quasi che la destra in Italia sia arrivata per la prima volta al Governo il 4 marzo 2018. Non è vero, anzi, il 4 marzo 2018 ci è arrivata per meno della metà il Governo, visto che gli amici del Movimento 5 Stelle, ecco, io non li classificherei in campo conservatore. nel ventennio precedente c'è stata molto spesso, c'è stata come destra, centrodestra, senza componenti di sinistra. In quell'occasione, adesso, senza volere tirare in ballo altri partiti, altre persone, non siamo qui a discutere di quello, ma in quel periodo c'è stato un malinteso liberalismo, dal mio punto di vista, Corrado Cone, che è maestro di liberalismo, nel caso mi correggerà, un malinteso liberalismo che si è tradotto in un non-interventismo, che era una finta neutralità, non si può essere neutrali quando c'è qualcuno che sta uccidendo qualcun altro. Non intervenire non significa essere neutrali, ma significa essere complici. In un momento in cui una minoranza, perché nel Paese era comunque una minoranza da un punto di vista di circolo di idee, di corrente di idee, di posizione politica, è riuscita a occupare delle strutture fondamentali del Paese, facendo fuori quelli che non erano allineati, il non-intervento non era neutralità, ma era una complicità, passiva, ma complicità. E adesso, invece, è importante che ci sia un governo, un'autorità politica, che difende la libertà di pensiero e la libertà di espressione. Di recente il Presidente Trump negli Stati Uniti ha fatto un intervento deciso in questo senso, ha annunciato anche delle misure legislative per difendere la libertà di espressione nelle università americane. Chissà che non si debba presto arrivare anche in Italia a qualcosa di simile, per riuscire a mantenere un minimo di pluralismo delle idee e un minimo di dibattito culturale non più a senso unico, perché il dibattito culturale a senso unico produce dei mostri, le famose camere d'eco che poi spingono sempre più verso il radicalismo. Lo stiamo vedendo con certe posizioni, ora non le cito, ma certe posizioni che appaiono alle persone normali totalmente assurde e strambe, ma che negli ambienti della cosiddetta elite del pensiero invece sono considerate moneta corrente e buonsenso. Il buonsenso in realtà sta da un'altra parte. Quando i cittadini normali, gli elettori, sono chiamati ad esprimerlo propendolo per un altro tipo di buonsenso, ma non si può abbandonare il campo di coloro che comandano, controllano la narrativa, controllano il discorso, perché nel lungo periodo è chi controlla il discorso che riesce a vincere. Prego. Sono io, devo dire, a ringraziare voi, a ringraziare di essere qua, perché partendo proprio dal Salone del Libro, voglio iniziare in un altro modo, però voglio partire da lì, perché è stata una delle cose, devo dire, che mi ha colpito di più, non solo da quando sono sottosegretario, ma in generale da quando faccio politica, perché è stata forse la volta in cui ho sentito di più il senso di oppressione del libero pensiero e un'ingiustizia fatta verso delle persone che onestamente al di fuori, perché poi si è spostato tutto sulla questione del Libro Salvini, Casa Pound, sicuramente perché serviva molto di più alla narrazione che comunque volevano fare alcuni di tutta questa situazione, era molto più suggestiva, ma in realtà verso una serie di persone, fra cui, vabbè, Giubilei, però anche altri, penso, Giulie, Borgonovo, Buttafuoco, persone che assolutamente dicono tranquillamente il loro pensiero, che è, anche attraverso Voto abbiamo visto il pensiero di molti italiani, ma un pensiero che non ha niente di sovversivo, niente di pericoloso, e all'improvviso io mi sono trovata davanti, questo io non me lo faccio, Raimo, che ha fatto una lista di proscrizione, cioè l'unica cosa realmente dittatoriale e degna di una dittatura delle peggiori, che si è vista al Salone del Libro, ma in giro in Italia, che fa il palio, per me fa il palio quando vediamo tutte le manifestazioni, io vengo da una città come Bologna, spesso mi tocca subirle con tutti gli altri cittadini, di centri sociali o persone che arrivano e vogliono impedire a altre persone di parlare, spesso le altre persone che parlano, devo dire, non hanno nessuna idea o poche che io condivido, però io sono stata cresciuta e sono stata abituata a rispettare il pensiero degli altri finché rimane in quel confine che è il confine della legalità, perché si chiama libero pensiero e non egemonia, che è quell'egemonia che cercano di avere, io poi ora, essendo sottosegretario della cultura, per quanto, io vengo da quella formazione perché ho fatto l'Accademia di Belle Arti, lì si sentono proprio padroni in toto, lì pensano di poter fare tutto quello che vogliono, lì pensano che chiunque deve tacere e forse per troppo tempo, realmente se non tacevi e fingevi di avere il loro pensiero, non avevi spazi, perché anche ora, e l'abbiamo visto col Salone del Libro, pensare diversamente da, non so come lo vogliamo chiamare, se non il pensiero unico, diciamo, che per loro dovrebbe esistere in Italia, vuol dire dover essere messo a tacere in qualunque modo, perché poi se uno legge, i loro pensieri, i loro post che possono essere sui social, le loro dichiarazioni, sono sempre dichiarazioni anche molto violente, vanno fermate in qualunque modo, arrivano i fascisti, che poi veramente, io molte volte dico questi non sanno neanche cosa sono i fascisti, cosa sono gli antifascisti, cosa vuol dire, cos'erano i campi di concentramento, perché poi raccontano e narrano anche sulle migrazioni, cose che per me, A, non danno il giusto nome a ogni fenomeno, è un fenomeno per affrontarlo e riuscire a risolverlo, bisogna dare il giusto nome, B, penso che offendano e tiro in imballo una delle pagine peggiori della storia del mondo, che non andrebbe sicuramente strumentalizzata per altri fini. Ma questo loro lo fanno sempre, lo fanno a ogni livello, lo fanno un paio di anni fa, stavo dicendo, prima è uscito una specie di libretto che avevano fatto questi famigerati antifascisti emiliano-romagnoli, in cui c'erano i posti dove per loro si riunivano i nuovi fascisti, chi era l'elenco dei nuovi fascisti da andare a prendere, da tenere sott'occhio, da fermare in qualunque modo, tra cui c'era anch'io nell'elenco, avevano detto, lei non è fascista, ma è peggio dei fascisti, perché gli appoggia e li difende, per cui io per loro era ancora peggio di chi era fascista. Questo è il pensiero che per me va combattuto e va combattuto con le idee, ma perché è veramente la cosa più antidemocratica, che sta prendendo sempre più piede e che si sta dilagando ovunque come una cosa normale, perché è quello su cui dobbiamo riflettere, che sembra normale, e questo ci sono anche dei magistrati poi che vanno a dire sì è normale, che uno arriva e ti dice fascista. Tu dici, vabbè, ma perché questo mi dice fascista? Io ho detto solo il mio pensiero, su qualunque tema, spesso capita quando si parla ovviamente di immigrazione. Arriva il giudice di turno e dice, vabbè, è lecito, è un suo modo di dire che tu comunque hai un pensiero che è sbagliato, non è un'offesa, è una critica lecita. No, perché come ho detto prima, ogni parola deve avere un peso e non può essere permesso a qualcuno di metterci a tacere. L'altra cosa però che mi è dispiaciuta è la questione del Salone del Libro, io ho parlato, l'ho ripetuto in ogni televisione, io sono andata ovunque a dire questa vergogna, onestamente, ma anche i presentatori delle trasmissioni, che erano con me in trasmissione, la stessa indignazione che io ho provato, perché per me è stata lesa la libertà di qualcuno, perché qualcuno che rimane a un salone deve avere la Digos davanti, perché qualcun altro l'ha messo in una lista e magari può arrivare qualcuno, tirargli un cazzotto in faccia, ammazzarlo e rovinargli tutto, cercare di rovinare quello che è la sua attività lavorativa, per me doveva indignare tutti, ma non ha indignato tutti. Oppure, ancora peggio, e questa è viltà, molti anche al Salone del Libro sono venuti quando sono andata a dirmi, hai ragione, però pubblicamente nessuno ha detto niente. Per cui, il passaggio fondamentale, benissimo tutto, però quello di prendere coraggio tutti, è stare accanto a chi viene ingiustamente attaccato perché parla liberamente delle sue idee. Questo è il passaggio fondamentale. Se noi non facciamo questo, loro l'avranno sempre vinta, perché loro arrivano come squali, prendono di mira uno, iniziano ad attaccarlo, gli altri si spaventano perché dicono se io faccio la stessa cosa, dopo partono i giornali, partono le trasmissioni, partono tutti gli intellettuali di turno, vengono, mi attaccano, allora vabbè, dai, sto zitto, è capitato a lui, speriamo passi velocemente, ma io sto zitto perché ho paura di essere attaccato ingiustamente anch'io. Noi dobbiamo essere orgogliosi delle nostre idee, perché al di fuori veramente che siano le idee di tanti, ma anche fossero le idee di pochi, sono idee come le altre e devono essere rispettate al pari delle altre. Dobbiamo avere il diritto di avere gli stessi spazi. Giusto è che soprattutto in cultura tanti problemi ci sono stati nel tempo. Vero è che ha governato anche il centrodestra, noi nel ministero dove io sono ora non ci siamo mai stati, diciamo che era diventato terreno di pochi, terreno di pochi che alla fine comandavano sugli altri. Io ho conosciuto, quando sono arrivata erano tutti un pochino spaventati, perché non si avvicinavano quasi a me, perché c'era, si additavano, poi hanno provato in tutti i modi. No, no, ma lei va via presto, perché poi la candidano da un'altra parte, non avvicinatevi, dovete stare lontani, lontani da lei. Piano piano, quando hanno visto comunque che dall'altra parte c'era qualcuno che riusciva in qualche modo a difenderli, volete esprimere il vostro pensiero, volete parlare, c'è qui qualcuno che non è fingeniente, hanno iniziato a parlare tutti. Io ho tanta gente, soprattutto una delle mie deleghe è l'audiovisivo, prima parlavamo dei film, di tutto questo settore fantastico, che è un settore in grande crescita in Italia, che può portare veramente tanto al nostro paese, che è usato come strumento, ovviamente, è stato usato come strumento di indottrinamento. Ma tuttora chi la pensa diversamente si trova in delle situazioni con davanti, no, guarda, però se c'hai quell'episodio di quella serie è meglio che lo togli, quell'altro non va bene, non mi piace questo, non parlare della legittima difesa, no, non va bene parlare così degli immigrati, perché dobbiamo dare solamente un certo taglio alla discussione, c'è un grande lavoro da fare. Io sicuramente tante cose le ho messe in piedi e per metterle in piedi basta veramente non sostituire giustamente, come è stato detto prima, questo pensiero unico, questa egenomonia culturale con un'altra, ma la libertà di far partire tutti dallo stesso posto, bandi, accesso a qualunque cosa, e così si ha la libertà, perché in automatico tante persone che sono state tenute fuori, che hanno tantissime capacità, riescono a prendere comunque il loro spazio. Mi sono resa conto, ad esempio, che su molti non bandi, ma ci sono i progetti speciali all'interno del mio ministero, quando sono arrivata a guardare non c'era nessun progetto speciale che fosse diversa da questo pensiero unico. Allora io ho cominciato a dire, ma perché non interessa la cultura a un'area diversa da quella solita che vediamo, con i soliti nomi? C'è gente che diceva, no, ma noi tanto ci abbiamo provato per tanto tempo, non ci siamo riusciti e abbiamo rinunciato, e anche questo è sbagliatissimo. Non bisogna rinunciare, perché io lì sono arrivata, ho una grande critica che ho avuto, anche lì sono rimasta sola, ma va bene lo stesso, io vado avanti, è stato quello su Migrarti, c'era questo progetto che andava avanti da anni, perché ricordiamoci che molte cose legate alla cultura sono pagate in buona parte da tutti noi, perché sono pagate dal ministero, anche quando si parla di cinema, ma non solamente di cinema, per cui vero è che la politica può indirizzare, indirizzare da una parte o dalla parte della libertà, noi siamo dalla parte della libertà, vanno tutelate, è ovvio, le nostre radici, perché qua c'è questo politicamente corretto, che è proprio arrivato alla negazione di noi addirittura, cioè noi dobbiamo arrivare al punto di negare quello che siamo, perché essere noi stessi è offensivo, è diventato offensivo, cioè dire abbiamo origini giudaico-cristiane è offensivo, non si sa perché siamo arrivati, veramente è il limite che raccontare noi, siamo arrivati, vabbè, voi l'avete visto nella mia provincia addirittura dire, mettiamo le tendine per coprire le croci, cioè siamo arrivati veramente ormai alla follia pura, diciamo sì che ci sono prelate una parte della chiesa che sicuramente, e sono tanti, è molto vicina a noi, perché io sto lavorando anche con tantissimi uomini di chiesa che veramente sono vicini perché si rendono conto, perché il tema, quello dell'immigrazione, che è quello su cui ovviamente fanno più leva in questo disegno dei cattivi barbari che sono arrivati al potere e che non si spiega una certa sinistra come facciano a prendere i voti, perché loro sono abituati probabilmente a scrivere sui giornali le cose, essere opinion leader unici soprattutto, per cui di poter indirizzare il pensiero di ognuno di noi, però l'immigrazione è un problema se gestito come è stato gestito finora, è un problema nel momento in cui integrare vuol dire cancellare le mie origini, perché se io cancello quello che sono, dimentico quello che sono, non ho delle fondamenta solide, come posso pensare che qualcuno arrivi e di poterlo integrare a cosa? Cioè integrare è diventato, e lo vediamo prima parlando di Inghilterra, possiamo parlare di tantissimi stati in cui integrare vuol dire rinunciare anche a una parte della nostra legge per fare dei tribunali che siano, come chiedono anche qua, ogni tanto ci sono anche sentenze che vanno in quella direzione di diritto di famiglia islamico, ma che vuol dire rinunciare a una parte dei diritti dell'uomo? Noi stiamo rinunciando a una serie di vittorie che abbiamo fatto con grandi battaglie, probabilmente abbiamo dimenticato, una grande cosa che dovremmo fare è ristudiare tutti un pochino di storia, che parta da capire cos'è il fascismo, cos'è l'antifascismo, come mai abbiamo certi diritti che ormai diamo per scontati, per cui non ci facciamo più caso e non sappiamo quante persone hanno dovuto lottare le fatiche per arrivarci, fingiamo di dire io sono buono perché accetto e tollero quello che è nella tua cultura o che è un retaggio di cultura e religione, quando in realtà non ti faccio un favore, perché molte persone che arrivano qua in realtà fuggono proprio da quello che poi noi qua gli facciamo ritrovare sotto casa nostra con la moschea, fra virgolette, perché sono quasi tutte moschee abusive in cui gli raccontiamo tu qua sei libero e poi dopo lì stanno quasi peggio dei posti da cui vengono, perché su questo io ho conosciuto tante ragazze che venivano ad esempio a Pakistan, da me diciamo ma come venite da me, non sono quella brutta, cattiva, la leghista, perché si trovavano qua in una situazione peggiore di quella da cui venivano e sicuramente tutta questa rivoluzione deve passare veramente anche dalla cultura, la cultura non è una cosa di altri, la cultura è una cosa nostra e come tale dobbiamo difenderla. Bene benissimo ci fossero mille eventi come questo, bene benissimo però fare veramente spondonica tutti assieme, unirci e quando qualcuno, come è successo al salone del libro, quando qualcuno viene attaccato bisogna tutti avere il coraggio di andare urlando sui giornali questa è una lista di proscrizione, questa è l'unica cosa fascista che c'è stata al salone del libro, perché quella è stata l'unica, hanno cercato di affossarla in tutti i modi portando la discussione su un altro tema, bisogna però ripetere, io sono andata per i dieci giorni dopo con un mantra, lo tiravo fuori, mi mettevano zitta nelle trasmissioni, addirittura trasmissioni in Rai in cui dicevo, cito Giulia, lavora anche qua, facciamo sì sì ma questa però è un'altra cosa, no non è un'altra cosa, perché è uno Stato che si dice democratico e può tollerare che ci siano liste dei buoni e dei cattivi, non secondo la legge, ma secondo un giudizio personale di cosa è buono, cosa può parlare, cosa è cattivo e deve essere messo a tacere in ogni modo, noi non avremo un futuro, per cui io ringrazio voi, sono disponibile, questo lo dico sempre, con chiunque, chiunque abbia delle idee a portare avanti quello che non è una nuova egemonia culturale o di pensiero, però è il pensiero libero che si basa su delle radici forti, che sono le radici giudaico-cristiane che fondano l'Italia e fondano un'Europa che dovrebbe essere meno legata alla burocrazia e più legata alla nostra cultura, alla nostra storia. Grazie. In tema di nicodemismo di chi deve nascondere le proprie idee, non è un caso che qui di fianco a me ci siano due professori ordinari, purtroppo vi potete immaginare che capita che persone che sono professori associati, ricercatori rispondano, è successo, abbiamo risposto, sono perfettamente d'accordo con te, mi piace quello che fai, ma non posso perché la mia carriera sarebbe rovinata dall'adesione, ma non dall'adesione a un partito politico, noi non è che facciamo sit-in, che facciamo attività sovversiva o altro, è un'attività culturale, cioè se non ci indigna e non ci preoccupa che ci siano dei professori universitari che non possono esprimere delle normalissime idee su temi che lambiscono la politica, perché se no rischiano di avere la carriera bloccata, io non so veramente cosa possa preoccupare più di questo. Sul Salone del Libro, se non sbaglio, credo che riceva anche sostanziosi fondi statali, ora non c'entra niente con questo, però penso che se i fondi statali venissero dati solo a coloro che garantiscono il pluralismo effettivo di opinioni vivremo in una nazione in cui questo pluralismo sarebbe molto più garantito. Non solamente sono antifascista, ma sono per la libertà di pensiero. Esattamente, perché quello è qualcosa di concreto e non sono vuote parole. Le abbiamo citati più volte, il professor Ocone e il Francesco Giubilei forse vorranno avviare nel dibattito dicendo anche qualcosa a loro. Proprio molto rapidamente, non so se si sente. Intanto grazie mille per le ripetute citazioni e complimenti, complimenti per l'attività di Daniele Scalea e Dario Citati con il Centro Studi Machiavelli, ci conosciamo da anni e collaboriamo. Complimenti sempre a Marco Zervasone, anche con lui faremo un libro insieme dopo l'estate. Grazie nuovamente al Sottosegretario per il coraggio nell'essere intervenuta nella questione del Salone del Libro di Torino e complimenti al professor Capotte per il suo splendido libro che ho letto sul politicamente corretto. Veramente tre annotazioni molto rapide su quello che credo dovrebbe realizzare un comitato scientifico come il vostro, ma in generale quello che dovrebbe avvenire per chiunque fa cultura nel nostro paese con una visione non conforme o comunque conservatrice, talvolta sovranista, liberale classica o quella che vogliamo. Anzitutto fare rete, perché quello che è avvenuto al Salone del Libro di Torino nei nostri confronti due settimane fa è venuto verso di noi, ma tra un mese può avvenire verso Daniele Dario, tra due mesi potrà avvenire nei confronti di un'altra realtà, quindi è fondamentale superare l'atavico problema della destra, lo scriveva già Prettolini negli anni 70, che è l'individualismo, cercare di creare delle sinergie, creare delle collaborazioni e fare rete, perché è importante, perché l'egemonia culturale della sinistra, oggi è politicamente corretto, si fonda proprio sul fare rete ed essere quindi uniti e aiutarsi. Il secondo punto è non avere nessun genere di complesso di inferiorità. La cultura conservatrice, la cultura liberale italiana non è inferiore in nessun modo a quella che è la cultura, se vogliamo, della sinistra o progressista. Nel corso del Novecento, nel corso dell'Ottocento ci sono stati alcuni dei più grandi scrittori, dei più grandi intellettuali, editori, che possono essere ascritti a quello che è il pensiero conservatore. Cito il romanzo del Gattopardo di Tommasi di Lampedusa, che è uno dei più grandi classici della letteratura italiana, ma potremmo stare qua tutto il pomeriggio citando grandi autori, quindi è necessario veramente essere consapevoli di quella che è la nostra storia, le nostre tradizioni e non dimenticarle. Terzo e ultimissimo punto fondamentale per un collegamento non tanto metapolitico e culturale, bensì più pragmatico e più politico, è il collegamento tra il mondo della cultura, il mondo della scuola, il mondo dell'istruzione, dell'accademia e dei media con la politica. È fondamentale che quanto ha fatto il segretario Borgonzoni avvenga anche in futuro e che ci sia una sinergia tra la politica, tra i partiti conservatori, i partiti sovranisti e i partiti liberali e quella che sono gli esponenti del mondo culturale ed accademico. Solo così facendo potremo cercare di cambiare quelle che sono le situazioni spiacevoli che talvolta avvengono in un paese che dovrebbe essere democratico a partire dal settore culturale. Quindi grazie nuovamente Emitaccio. Brevissimo, volevo dire che ecco la politica è molto importante, mi ricollego al terzo culturale di Francesco Giubilei, perché nei venti anni diciamo di berlusconismo, chiamiamo così, bisogna dire che sicuramente Berlusconi aveva individuato il problema dell'egemonia culturale della sinistra. Però poi sostanzialmente se ne è disinteressato, non ha messo mano ai finanziamenti a enti e fondazioni, non ha messo mano ai finanziamenti culturali del Ministero per l'editoria, è rimasto tutto immutato, cioè proprio questo settore è stato sottovalutato, perché effettivamente forse è un settore che non fa vedere subito i risultati, però sulla lunga distanza crea un clima diciamo culturale che ha dei riscontri sicuramente anche politici. Quindi secondo me è questo che bisogna chiedere fortemente al sottosegretario, ma in genere a tutte le persone che diciamo in questo governo si occupano di temi culturali, di occuparsene veramente, non considerarlo un tema di serie B, perché è vero che non dà forse subito riscontri elettoralistici, occuparsi di cultura, oppure non dà riscontri, come posso dire, di consenso immediato, eccetera. Però sulla lunga distanza è fondamentale, cioè non è che bisogna creare, come diceva giustamente il sottosegretario, una contro-egemonia, però bisogna riportare le cose al giusto posto. E questo giusto posto si chiama, a mio modo di vedere, autonomia della cultura. Cioè la cultura è qualcosa che deve essere il meno politicizzata possibile. E quindi è un lavoro di sottrazione, non bisogna opporre una cultura di destra a una cultura di sinistra, ma dire che la cultura, come l'ha concepita la sinistra e come l'ha concepito diciamo tutto il mondo intellettuale italiano dal dopoguerra ad oggi, è una cultura non autonoma, una cultura che non è cultura fino in fondo proprio perché è, come posso dire, viziata dall'interesse pratico. Quindi questo è un lavoro, è un lavoro molto difficile, di lunga lena e ci vuole necessariamente l'appoggio della politica. Quindi io mi auguro che questa sia la volta buona. Grazie, il tempo a nostra disposizione è finito. Ringrazio nuovamente gli ospiti, vi invito a seguire ancora l'attività di Machiavelli, esattamente fra una settimana ci sarà il prossimo convegno con un ospite internazionale, il professor Daniel Pipes dagli Stati Uniti. Il nostro sito troverete tutti i nostri report, i libri, altre pubblicazioni. Spero quindi di rivedervi molto presto. Grazie. Grazie.